A Lola! A Lola! A Lola! A Lola! Allora, siamo morti, l'umiltà cagnata, l'umiltà è un po' di ciò, non possiamo ammettere se si è morto. Perché i ragazzi non hanno parlato di rim, allora è un po' di cagli, l'umiltà di tutto quanto, non lo voglio fare, non lo voglio fare, siamo 440 persone, perciò non devi farlo appiccicare. A Lola! 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 Voglio dire una cosa, caparese ancora l'uomo !! Massima serietà, educazione, ecclesi, e divertiamoci un po' di chiù. Oggi è un giorno di festa, va bene? 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 Sì, vabbè, vabbè! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.